Dopo mesi di indagine, i militari delle Fiamme Gialle del gruppo di Viareggio hanno scoperto un esercizio commerciale con un punto vendita anche a Lucca, dove erano in vendita numerosi capi d'abbigliamento e scarpe delle più importanti grift alta moda Supreme Louis Vuitton Golden Goose, che a un attento esame sono risultati come prodotti contraffatti. Per il rappresentante legale dell'attività è dunque scattata la denuncia a piede libero. Nelle stesse ore a Forte dei Marmi, i finanziari hanno bloccato un soggetto extracomunitario ritenuto una figura di spicco nella commercializzazione di orologi falsi su tutta la riviera della Versilia. L'uomo infatti è stato trovato in possesso di numerosi orologi contraffatti recanti famosi marchi Rolex, Panerai, Patefilipe, occultati all'interno della propria autovettura. I prodotti di pregio alle fatture in grado di soddisfare anche clienti più esigenti erano in vendita cifre che raggiungevano anche 500 euro. Anche per l'extracomunitario è scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi che prevede la reclusione da 1 a 4 anni e da 2 a 8. La nostra attività a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy continua. Questo soprattutto per tutelare le imprese sane, le imprese che operano nella legalità e quindi di conseguenza anche i dipendenti di queste imprese. Poi mi preme ricordare che spesso questi prodotti sono anche dannosi per la salute perché vengono preparati, vengono assemblati con merce, con materia prima tossica e quindi un rischio concreto per la salute, soprattutto per quei prodotti che sono a contatto con la pelle. E poi mi preme anche ricordare che è prevista una sanzione amministrativa anche per chi acquista prodotti contraffatti, una sanzione che può arrivare fino a 7.000 euro.